vaccini, prenotazioni in calo, spazio ai soli richiami agevolazioni tari, il comune di Pesaro ridurrà le imposte 2021 il presidente Mattarella, ospite del concerto di chiusura del ROF domenica torna la mezzanotte bianca dei bambini Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale oggi è martedì 29 giugno e come sempre vi informiamo in questi orari sul canale 633 del Digitale Terrestre e anche sulla nostra pagina Facebook gli orari delle 19.40 e la replica delle 20.40 apriamo questa edizione dedicandola alla situazione sanitaria della nostra regione luglio è ormai alle porte, potrebbe essere il mese in cui i vaccinati al covid-19 con prima dose potrebbero sparire lasciando spazio ai soli richiami questo è il quadro che si evince dagli ultimi dati di prenotazioni al vaccino in cui a mancare l'appello sono molti marchigiani sotto i 40 anni da metà luglio la campagna vaccinale delle marche potrebbe andare avanti solo con le seconde dosi è questo il quadro che si evince dal sistema delle prenotazioni al vaccino che riduce ad un dato sempre più residuale la prenotazione alle prime dosi del siero ad oggi potrebbero infatti bastare una decina di giorni per terminare le prenotazioni attualmente nell'agenda regionale si è infatti esaurita la spinta al vaccino degli over 60 immunizzatisi per oltre l'80% della popolazione l'adesione al vaccino degli over 40 si è mantenuta superiore al 60% mentre sotto i 40 anni non c'è stata la corsa al vaccino fra i 20 e i 40 anni si è infatti prenotato al vaccino appena un marchigiano su due la campagna di prenotazione senza limiti di fascia anagrafica è aperta da quasi un mese e al di là di qualcuno che può prendersela comoda pensando di rimandare la prima inoculazione dopo l'estate è improbabile pensare che il dato attuale subirà grossi scossoni i numeri del contagio estremamente bassi sembrano attenuare la criticità mentre l'attenzione alla variante delta suggerisce tutt'altro nelle marche sono al momento 5 i soggetti positivi al covid-19 nella cosiddetta variante indiana ritenuta del 40% più trasmissibile di quella inglese tre casi sono stati registrati in provincia di Macerata uno in provincia di Ascoli e uno a Senigallia la cabina di regia regionale sta lavorando assieme ai laboratori di virologia sul tracciamento dei cluster e allo stesso tempo sta rilanciando la sensibilizzazione ad aumentare quella percentuale di vaccinati che avvicini il territorio all'immunità di gregge e intanto continuano ad arrivare dati confortanti per quel che riguarda i contagi nella nostra regione Marche è infatti dello 0,8% la percentuale di tamponi positivi al covid registrati nella giornata di oggi 8 i nuovi casi positivi di cui 2 nella provincia di Pesaro Urbino su 1.000 e 2 nuove diagnosi per un totale di 1.955 tamponi scendono a 25 i ricoveri nelle Marche cioè 5 in meno di ieri 4 i pazienti in terapia intensiva, 2 meno di ieri per il terzo giorno consecutivo non si sono registrati decessi e cambiamo completamente argomento perché il Comune di Pesaro ha presentato oggi un maxipiano di agevolazioni al pagamento della Tari costituito su un investimento di circa 1 milione e 800 mila euro ne beneficeranno tutte le attività economiche con riduzioni calibrate sulle specifiche criticità di settore subite in tempo di pandemia ci saranno però anche riduzioni per le utenze domestiche delle famiglie i dettagli però ce li spiega meglio l'assessore al bilancio Riccardo Pozzi da un paio d'anni sono cambiate le modalità di calcolo della tariffa della Tari delle modalità che derivano da adeguamenti normativi che sono imposti dall'alto e che avrebbero portato in un primo momento a degli adeguamenti di qualche euro nei confronti di tutti. L'intervento a cui abbiamo lavorato da subito appena abbiamo visto questi tipi di adeguamenti è stato quello di trovare le risorse per far sì che le famiglie non si trovassero dei balzelli in un momento socio-economico difficile come quello che stiamo vivendo e quindi abbiamo fatto due operazioni una mirata sulle utenze non domestiche quindi su tutte le attività che avranno uno sconto direttamente in bolletta di proporzioni come non si erano mai viste stiamo parlando di un'esenzione vera e propria della Tari quindi una riduzione del 100% della Tari per impianti sportivi per cinema, teatri, per le agenzie, agenzie viaggio, agenzie di comunicazione una riduzione del 65% per tutte le attività che gravitano intorno al mondo del turismo della ristorazione, quindi parlo di campeggi, di alberghi, di bar, pizzerie, ristoranti quindi ripeto una riduzione del 65% della Tari già in bolletta poi altre riduzioni del 40% e del 30% e via via praticamente tutte le attività che sono in regola con i pagamenti beneficeranno di una riduzione della Tari riduzione ripeto importante perché non si è mai avuta una riduzione di questo tipo vuol dire che un ristorante che pagava 1000 euro si troverà nella propria bolletta a 350 euro anziché 1000 quindi si tratta di un intervento di una manovra considerevole poi sulle utenze domestiche invece abbiamo fatto due tipi di ragionamento abbiamo messo le risorse per ridurre la Tari a tutti e abbiamo concentrato in un fondo di 300.000 euro una riduzione, un bonus della Tari pari al 50% quindi un bonus del 50% della Tari per 3.000 famiglie pesaresi quindi secondo quelli che saranno dei parametri ISEE andremo a individuare 3.000 famiglie pesaresi su domanda che faranno una domanda per avere un contributo un bonus Tari del 50% sono misure di una portata enorme come diceva lei giustamente stiamo parlando di quasi 1.800.000 euro e sono risorse che si riescono a fare grazie al bilancio sano che dipende come dicevo sia da scelte politiche che sono state fatte in questi anni che dalla fedeltà fiscale dei pesaresi che andiamo a premiare Ed ora passiamo alla cronaca a Durbino attorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì infatti due ragazze uscite da un ristorante del centro storico sono state avvicinate in via Budassi da un 25enne travisato in volto da una mascherina nera che ha minacciato le due giovani con un coltello alla richiesta di consegna del portafogli il malvivente ha di fatto rubato la somma di 50 euro sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri di Urbino supportate dalle immagini di videosorveglianza Ed ora ci spostiamo invece nella zona mare di Pesaro dove nella notte tra sabato e domenica una minorenne a bordo di uno scooter è stata travolta da un'auto grigia all'angolo fra Viale Trieste e Via Lanfranco per fortuna senza riportare gravi conseguenze alla guida dell'auto due uomini sulla Trentina che non avrebbero rispettato la precedenza per poi dileguarsi dopo l'incidente la polizia locale sta indagando dopo aver ricevuto la denuncia per omissione di soccorso da parte della famiglia della ragazza le telecamere di sorveglianza di un'abitazione della zona hanno girato le immagini che vi stiamo mostrando video che la madre della ragazza ha pubblicato anche su Facebook invitando a chiedere testimonianze su chi possa aver visto quest'auto fuggire dal luogo dell'incidente la regione Marche ha investito 5 milioni in un piano straordinario di manutenzione dei ponti stradali un progetto presentato oggi dall'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli che ci viene illustrato in questo prossimo servizio 134 ponti, 5 gallerie, 4 cavalcavia e quasi 5 milioni di investimento dedicati a manutenzioni e messa in sicurezza sono questi i numeri del progetto ponti sicuri presentato oggi dall'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli che avvia un piano di monitoraggio senza precedenti per il triennio 2021-2023 sotto osservazione le strade della provincia di Pesaro Urbino come la Pecchiese o Bocca Trabaria con una lunga lista di ponti e gallerie che sconfina a strade come l'Arceviese, la Val Nerina, la Val di Chienti o la Salaria una decisione non più procrastinabile ha annunciato Baldelli riferendosi al fatto che per alcune di queste infrastrutture non era disponibile alcuna relazione sul loro passato stato di conservazione né in regione che ne è diventata proprietaria nel 2017 né nelle province che ne hanno avute o competenza dal 2001 fino alla riforma del Rio tradotto per alcuni di questi ponti e gallerie mancavano indagini ispettive da almeno 20 anni altri ancora risultano monitorati nel 2009 indagini ispettive che ora partiranno in tempi celeri grazie ad una immediata disponibilità di quasi 5 milioni di risorse dedicate il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite a Pesaro per assistere al concerto Galà Rossini del Rossini Opera Festival 2021 previsto per domenica 22 agosto lo hanno annunciato il sindaco Matteo Ricci il vice sindaco Daniele Vimini sottolineando come la presenza di Mattarella rappresenta un onore e un enorme riconoscimento alla città della musica Unesco il comune di Pesaro aggiungerà 110 mila euro ai 10 mila previsti dal bilancio annuale per riuscire ad accogliere tutte le 313 domande di partecipazione ai centri estivi 2021 arrivate ai servizi educativi del comune lo hanno comunicato gli assessori Giuliana Ceccarelli e Riccardo Pozzi dimostrando di voler andare incontro a un numero di richieste rivelatosi di 6 volte superiore alle 49 domande ricevute invece nel 2020 a Palazzo Rubini Vesin di Gradara è stata inaugurata la mostra Rodin a Gradara il bacio di Paolo e Francesca nel castello del mito la mostra cura di Ferruccio Farina e Sandro Parmigiani espone l'unica opera originale della fusione in bronzo del bacio di Rodin della fondazione Giannadda accompagnata da un affascinante percorso fotografico oltre al bacio e alle foto del maestro Vasco Ascolini la mostra ha come punti di forza le scenografie spettacolari sviluppate dal visual designer Paolo Buroni domenica 4 luglio Aldo Cazzullo e Piero Pelù condurranno il pubblico dell'anfiteatro del parco Miralfiore di Pesaro alla scoperta di Dante con lo spettacolo A riveder le stelle attraverso la regia di Angelo Generali Cazzullo porterà alla scoperta del poeta che inventò l'Italia ricostruendo l'esperienza dell'inferno descritto nella Divina Commedia ad accompagnarlo in scena un ospite d'eccezione come il noto cantante nonché fiorentino doc Piero Pelù Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni vi ringraziamo come sempre per essere i nostri reporter di fiducia e segnalare sempre al nostro numero whatsapp con foto, video e messaggi quello che non va oggi vogliamo farvi vedere e porre la vostra attenzione su questa poco decorosa situazione di imbrattamento in cui versa l'edificio di fronte al liceo artistico Mengaroni una situazione di incuria in pieno centro storico che ci viene testimoniata da foto e video inviateci da voi telespettatori vi invitiamo quindi a continuare con questo lavoro importante questo senso civico che fate alla città di Pesaro per cercare poi di porre rimedio alle cose che non vanno domenica 4 luglio torna a Pesaro un evento molto apprezzato dai bambini stiamo parlando della mezzanotte bianca dei bambini un evento che per l'occasione è stato insomma ricalibrato in questa special edition domenica 4 luglio piazza del popolo ore 19 e ore 21 e 30 un unico luogo due momenti per un grande evento che resiste al tempo e resiste anche alle restrizioni da pandemia si tratta della mezzanotte bianca dei bambini che viene riproposta anche in questo 2021 nonostante le problematiche si è deciso di non rinunciare a questo evento dell'estate pesarese dedicato ai più piccoli dedicato anche alle famiglie sarà una formula diversa vedete qua alle nostre spalle la piazza del popolo con tutte le sedie adibite un momento forse più teatrale ma che sicuramente non perderà il suo fascino e il suo intrattenimento per i bambini della città di Pesaro siamo tornati in zona bianca ma non per questo la mezzanotte bianca sarà uguale agli altri anni ma abbiamo deciso però di mantenere una serata simbolica di questa manifestazione l'anno scorso abbiamo rinunciato perché chiaramente il tema assembramenti è una manifestazione che nasce per l'assembramento dei bambini, dei giovani insomma del gioco, dell'incontro e anche quest'anno non potevamo svolgerlo nella maniera tradizionale però non volevamo neanche perdere del tutto l'anno e quindi essendo la nostra città è stato anche uno dei modelli negli ultimi anni e mezzo per gli eventi, per gli eventi all'aperto per gli eventi in sicurezza in Piazza del Popolo, nei teatri, il Parco di Miralfiore abbiamo pensato che la platea di Piazza del Popolo chiaramente potrebbe accontentare un numero minore di famiglie però potesse essere una situazione sostenibile e sicura e quindi lo spettacolo per un anno sarà solamente sul palco con la possibilità di seguirlo in due blocchi alle 19 e alle 21.30 prenotandosi gratuitamente uno spettacolo che andrà anche poi nei social della Mezzanotte Bianca e quindi insomma allargerà la propria sfera di visibilità anche al resto d'Italia che già nelle prenotazioni che sono sostanzialmente sold out anche se si può iscrivere a una lista d'attesa perché poi verosimilmente potrebbe esserci anche un turnover nelle disdette magari dell'ultimo minuto e quindi invitiamo comunque a farlo però possa continuare a essere anche un elemento di attrazione turistica i dieci anni li abbiamo già fatti quest'anno teoricamente sarebbe l'undicesima ma l'abbiamo chiamata Special Edition perché è un'edizione un po' speciale come dicevi appunto siamo in Piazza del Popolo domenica 4 luglio dalle 19 alla mezzanotte sono due gli spettacoli principali alle 19 il Coccole Sonore Show con Greta e Whisky Regnetto due format ormai conosciuti in tutta Italia e alle 21.30 è la Magic Night in collaborazione con Rainbow quindi Wings Club, 44 gatti un episodio in anteprima mondiale di un nuovo format Rainbow che si chiama Summer and Todd l'allegra fattoria e come special guest finale la vincitrice dell'ultimo zecchino d'oro Anita Bartolomei che canterà qui in piazza per noi Banca di Pesaro ha sempre creduto in questo progetto perché l'ha sostenuto sin dalla sua origine quando è stato proposto eravamo ai giardinetti di Viale Zare eravamo in 4 o 5 mi hanno chiamato ovviamente la Banca di Pesaro e il Consiglio dell'amministrazione ha sempre avuto un occhio di riguardo particolare nei confronti dei bambini dei giovani dei ragazzi perché è un obiettivo principale su cui tutti ci dobbiamo credere la Banca di Pesaro è la banca della città la banca del territorio quindi queste iniziative sono ben accolte e supportate perché è il nostro diciamo in ambito sociale è anche un nostro obiettivo che lo prevede lo stesso nostro statuto il sostegno del sociale meglio di questo per questa iniziativa che poi vede i bambini come forse anche un segnale di rinascita in questo momento così difficile che sarà un'edizione limitata però comunque è un segnale sperando tutti che questo problema del Covid si attenui fortemente con le vaccinazioni con insomma con il tempo che ci aiuterà ad affrontarlo quindi la Banca di Pesaro è presente lo sarà anche in futuro e vive i bambini in chiusura parliamo di sport nuova Montelabate Vicenza Levante Genova Fabrizio Miccoli Lecce sono queste le quattro squadre che compongono il campionato nazionale di calcio amputati ritrovatesi sabato a sfidarsi allo stadio Mancini di Fano Giorgio Ricci ha raccolto per noi le voci dei protagonisti di questo evento capace di unire lo sport e tante storie di tenacia e forza caratteriale siamo felici di ospitare la seconda tappa del campionato italiano amputati è un onore per la nostra città ospitare questo evento io ho avuto modo di ringraziare anche il presidente questo è un momento di sport di agonismo ma è anche un forte momento di cultura perché passano dei messaggi importanti lo sport è sopra le barriere lo sport come determinazione come emancipazione la dimostrazione che le diverse abilità si possono esprimere in tanti modi il calcio amputati è una disciplina che si sta facendo all'incampo internazionale prepotentemente in Italia è un movimento molto giovane che è nato praticamente otto anni fa perché un ragazzo nato senza una gamba ha voluto confrontarsi con giocatori col suo stesso problema quindi con Facebook che è riuscito a mettersi in contatto con altri giocatori e pian piano è nata questa squadra che poi è diventata la nazionale io allenando lui automaticamente è stato quasi devo dire automatico diventare poi allenatore e poi adesso CT della nazionale devo dire che sì è stato molto emozionante per me fare tutto questo percorso lavorare con con questi ragazzi che poi si sono rivelati ragazzi eccezionali perché persone che riescono a superare i propri limiti riescono poi ad insegnarti e darti tantissimo ad oggi siamo arrivati alla costituzione di quattro club e proprio con questi quattro club questo è il secondo anno che promuoviamo il campionato italiano per calcio amputati è un evento che ovviamente sta crescendo a dismisura a tal punto che anche attraverso le relazioni con il comitato italiano paralimpico e tra il comitato paralimpico la federazione e la federazione italiana gioco calcio si sta pensando di poter anche aprire all'interno della federazione gioco calcio che sarebbe per noi un evento particolarmente importante perché vuol dire coinvolgere ancora una volta una federazione olimpica accogliere al proprio interno la sezione paralimpica si potrà noi speriamo nei prossimi anni già partendo dall'anno prossimo di poter iniziare ad annoverare all'interno di un percorso della FIGC anche quello che riguarda il calcio amputati il calcio è il gioia diciamo il sport è gioia di vivere è un'opportunità diciamo che mi è stato dato di poter esprimere me stesso anche con la mia disabilità parziale che ho quindi a posto di uno di piangersi addosso dopo un incidente brutto che può capitare a qualsiasi persona nella vita ho deciso di rimboccarmi le maniche e di far vedere che non sto aspettando chiuso in casa ma ho preferito di uscire dal mio guscio diciamo del momento che ce l'avevo nove anni fa mi sono infortunato e ho perso il braccio l'arto e poi ho scoperto che nel tempo c'era comunque la possibilità ancora di giocare e quando ho saputo appunto che c'era questa possibilità ne ho approfittato anche perché ho sempre giocato a calcio ed era il mio sport preferito e ho sempre giocato in porta e il fatto che possa giocare con una mano in porta mi ha dato ulteriori stimoli è uno sport è un calcio come quello dei normodotati non cambia assolutamente niente la differenza è che calciamo con una gamba i giocatori e i portieri parlano con una mano ed è un modo per uscire spesso e volentieri come nel mio caso da situazioni di depressione o comunque molto molto difficili perché quando uno perde un arto fa molta difficoltà a somatizzare questa situazione e quindi per me lo sport è stato molto importante e allora complimenti a tutti questi ragazzi che fanno un lavoro meraviglioso e questo ci fa veramente capire come lo sport possa dare veramente ragione di vita adesso andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV infatti questa sera alle 21.15 vi consigliamo soprattutto ai giovani di seguire questo approfondimento dedicato alle start-up la Regione Marche ha lanciato e presentato in diverse occasioni noi le abbiamo seguite praticamente tutte un bando per la creazione di impresa per le start-up rivolto chiaramente alle imprese che nasceranno nelle Marche quindi informatevi questa sera alle 21.15 e poi avete ancora tempo per votare la vostra foto preferita tra quelle che vi facciamo vedere cioè andando chiaramente sulla nostra pagina Facebook mettendo il like segnando la reaction che contraddistingue la foto che volete votare perché come sapete poi domani ci sarà una nuova puntata di Quala Zampa e pubblicheremo le foto di altri vostri amici animali infatti domani una nuova puntata di Quala Zampa alle ore 21.15 non perdetevela perché ci sono veramente tante informazioni utili per voi per i vostri amici animali e come sempre vi ricordiamo anche di scaricare la nostra applicazione gratuita Rossini TV sul vostro Google Play oppure sull'App Store per essere sempre connessi a Rossini TV anche se siete fuori casa potete vedere la nostra emittente tramite il vostro cellulare seguire le notizie i programmi oppure chiedere anche informazioni ho detto veramente tutto adesso vi lascio con il meteo noi però ci rivediamo domani mattina alle 7.20 con la rassegna stampa per la rassegna stampa